Buon Natale! Mamma che... mamma che umore che c'è, ma in canadese... no no per favore non parliamo di politiche, chiamalo solo per fare gli auguri, sì sì, no lo so che è un periodo difficile, sì, ormai solo Obama ci può salvare, l'hai chiesto a Babbo Natale, no, no però basta con questa storia di Obama, cioè sempre a parlare di Obama, no è l'unica nota positiva, non lo so ma ce la dobbiamo cavare da soli, non so che c'è stato Villari, sì la torre figurati certo, sì Bassolino, Mervolino, sì Firenze, l'Abruzzo, penso che non è un periodo facile però insomma ce la possiamo fare, no? Eh sì Walter è stato bravo in direzione, poi c'è questo Soru che eh sì, sta piacendo molto insomma, ci sarà mica solo Obama, dai adesso Andrea mi sembra mi sembra un po' assurda sta cosa, mi sembra un po' provinciale, no questa cosa che dobbiamo copiare dagli altri perché non abbiamo niente da dire noi, no lo so che sono stato a Grand Park, sì, no figurati, sì anche per lì, no lo so andavo con quel distacco, con quell'atteggiamento come dire di chi vuole imparare ma sapendo che la situazione è molto diversa, che da noi non change, così è un po' difficile, sì, no figurati Andrea però è un modo un po' così, è un alibi, no? Sì, pensare ad Obama così poi dopo da noi non cambia niente, vabbè, no, no no, no, senti facciamo una, vedrai che il 2009 sarà meglio, beh c'è, no lo so che te lo dicevo anche nel 2008 però, sì, peggio di così, eh Andrea passalo bene, cerca di rilassarti, vai di pensare ad altro non soltanto ad Obama sto piatto fisso, ecco, va bene, ok, oh tanti tanti cari auguri, eh, sì, God bless you, ciao, un bacio, ciao Ciao